Swipe o carica? Si ma io non posso continuare a beccare mage, cioè i secret mage sono lì che rompono le mage, ma in una maniera mage Bravo, mi piace questo hero 2, turno power Non ci saranno partite, bensì partite di ben, sentitemi bene, 60 partite Quando una carta risulta essere troppo forte o troppo abusata o troppo cacata Quindi rendere un mazzo davvero davvero potente e niente, la mettono in guai per vedere che il standard faccia più cacca il necessario E la mano non è affatto male, anzi è perfetta per chiudere Daurissan Vella 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 raga, bentrovati di nuovo dal vostro Quest Islander Hunter Questo video voi lo vedrete giovedì, ma in realtà l'ho registrato giovedì Dragon Hunter, Dragon Hunter, che grosso, è lino marcio comunque Non me ne frega un cazzo Io vorrei evitare di perderla iena, sono onesto Potremmo evoccare la lince, poi fare coin e corruttrice Poi evoccare coin e corrut-coin Sotravvive Però perdiamo entrambe le coin Tocchiamo il nido marcio Boom! Boom! Va bene, va bene, perdi-perdi Infatti ne mettiamo ciccionissimi, non ce ne vedrà niente Anzi ora risolviamo la quest, sarebbe perfetto vedere Embiggen Alleluia, 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 alleluia Fantastico, non mi viene da giocare, sicuramente Però quando la rinvieni è fortissima, è fortissima È un russo, sei un russo, io da quando ho iniziato a giocare russo, non ho mai russo Mi rifiuto di perdere contro i russi, così, per partito russo Ragazzi quella carta lì è maledetta, perché scommetto quello che volete che avrà rinvenuto un drago russo Eh, picchiami dai, così sei costretto a perdere un po' di board No, no, no Perdi la board, così io adesso gioco Alex Trazza Ti porto a 15 E risolvola a questo Ti piace raga? Non so quanto ci sta Ce la sentiamo Avevo che un carica, avevo che un carica Carina questa mossa Carina questa mossa No, 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 no Oh, non fare niente, eh Mo cosa c'è? Mo cosa c'è? Io spererei Allora, per ora sono solo rare, vabbè Io spererei veramente che non mi è mai successo di trovare Solo rare, vabbè Giochiamo l'inseguitore E non penso che ce lo tieni giù sotto, così Eh, la miseria, così a cannone Quel soffio corrosero Mi viene da piangere anche a me, guarda te Una epica, una rara E basta E basta E basta Te la capissi l'italiano o no? Basta Ti prego Come si dice in gergo? Cribbio, cribbio lino Come si chiamava la donna Robone, il famoso film di sordi dell'ottanta? Daurissal Allora questo non è un villaggio turistico? Si con mille bombi Benissimo, la risposta è il radar Sì Ce la sentiamo Bam Bamete Iropaver Vero dire Iropaver e Iropover Quindi ho detto Iropaver Credo che tu non faccia ridere Chiamo la Blizzard Prendo il telefono e chiamo la Blizzard Da 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 It's the motherfucking Eagle Double G Ciao Ciao Ciao